Presidente, sull'emergenza Covid il Ministro della Salute e Speranza prospetta un prolungamento dello stato di emergenza almeno fino a marzo. Lei condivide questa linea molto prudente di reazione? Ma ha ragione, ci sono comunque 5.000 contagi al giorno in Italia, che non sono certo quella terribile situazione che vivevamo l'anno scorso, dove superavamo i 50.000 contagi in alcuni giorni, però indubbiamente è una situazione di emergenza che perdura, che riusciamo a superare, a vivere finora senza restrizioni della mobilità, sono un lontano ricordo le zone arancioni e le zone rosse, però se vogliamo fronteggiare l'autunno e l'inverno mantenendo un livello di gestione quale è quello attuale, comunque è una situazione di emergenza, a mio giudizio, comprensibile.